Musica Nuovo episodio di FIFA 20 Siamo qui ancora con il nostro Chievo Verona per iniziare una nuova stagione La quarta e ultima Se possiamo dire così Però credo che sia la penultima stagione Comunque oggi faremo degli acquisti in difesa e al centro campo E ovviamente simuleremo o giocheremo il torneo precampionato Vi ricordo nell'altro episodio abbiamo visto i budget trasferimenti Che è di ben 110 milioni Ora non facciamo acquisti per ora Però giochiamoci il torneo precampionato Così potremmo avere 10 milioni in caso di vittoria completa Ok? Con quei 10 milioni in più Quindi 120 milioni Vorrei acquistare un paio di giocatori Anzi 3 Rugani ci serve perché in difesa abbiamo attualmente due giocatori che non superano l'80 Che non hanno nemmeno 80 A parte bastoni Quindi vorrei sostituire Salcedo perché come difensore di riserva ci sta Però lo sostituiamo e mettiamo a Rugani Se è possibile acquistarlo Mentre accendo campo C'è stato il sondaggio Il sondaggio tra Vignato e Adli Chi doveva rimanere O se ne va o sta in panchina Avete votato in 3, 4 Vabbè pochissimi però Pochi ma buoni E ha vinto di un solo punto Vignato Quindi compreremo Kai Avertz Che mi è stato consigliato Grazie E anche i Rugani Grazie mille ragazzi Mi è stato consigliato appunto Kai Avertz Che io sostituirei a posto di Adli Quindi per ora cerchiamoli E poi si vede Quindi Kai Ragazzi Kai Avertz Prima facciamo il precampionato e poi si vede Eh ma ora lo prendo Ragazzi E devo dare per forza via a qualcuno Quindi Peccato È un po' improbabile Però Rugani 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 Daniele dovrebbe valere Di meno eh Infatti è così Kai Avertz Parte da 108 Ragazzi quindi Kai Avertz Non è Non è possibile Credo Non Cioè O solo lui ci compriamo ragazzi O Rugani O Rugani Rugani che è acquistabile Ha una cifra molto inferiore Di Kai Avertz Vabbè che gli anni di Ferenza sono tanti Però che Cioè Kai Avertz è impossibile ragazzi Kai Avertz non si può Kai Avertz non si può Ragazzi vi leggo i giocatori Che ho cercato Ok C'è Leon Goretzka Che cosa troppo Gendo si che sarebbe buono eh Michael Merino È un po' costoso E poi c'è lui Che io comprerai subito Grande Joel Obey Ma chi se lo ricorda Ma Ve lo ricordate al Joelino Joelino Al Joelino Obey che ci ha fatto sognare C'è Ezequiel Palacios Che è fortissimo Ce lo potremmo acquistare Thomas Party Sarebbe buono Perché non vale neanche tanto C'è Lemans Sarebbe buono E Awar Ragazzi Awar Awar è un'occasione Ragazzi spettacolare Alla clausola Di 65 Milioni E vale Da 74 A 102 Cioè qua ce lo regalano Ragazzi Qua ce lo regalano Barella Barella è raggiungibile Bentancur Si potrebbe fare Però non costa troppo Anche Danice Baio Sarebbe buono Dominguez Forte Questo qui Tutto di costa in scadenza Lo prenderei a gennaio In scadenza Però ce lo regalo 65 milioni Per Awar Che è un potenziale Di 95 Ma è una cosa assurda Awar Cioè perché non comprarlo Ma ragazzi Togliamo un francese E copriamo un francese Ma per quale motivo Cioè perché Adria È francese Awar è francese Togliamo un francese Aggiungiamo un francese Quindi acquistiamo Awar Per 65 milioni Poi vedremo I soldi Che ci restano Per ora Compro solo Awar E poi si vede Per Rugani Awar ci chiede subito Cruciale Mentre Eh 4 arni Ci sta Ci sta Awar Che i 24 anni Ragazzi Può crescere tantissimo Accettiamo Senza causare Registore Va benissimo Si parla di soldi Ora E io direi Di offrire Il nostro diventino È abbastanza altino 80 milioni Secondo me Ci sta Per Awar Non si sputa in faccia No Se è diminuito Però Voglio un bonus Troppo grande Così va bene Secondo me Ecco Ragazzi Awar È un nuovo Giocatore Del Chivo Verona Ci rimangono 44 milioni Forse Più 10 Del Precampionato È Rugani Non è Lontano Rugani Eccolo È entrato A far parte Della nostra squadra Awar Che ne dite Di uno scambio Esposito Belotti Giusto per dire Esposito Belotti Simuliamo Contro il porto E se va male Ci giochiamo Gli altri due Comunque vi farò Sempre vedere Sempre vedere Solo il gol Al torneo Precampionato Solo gol Simuliamo partita Il debutto Il debutto di Awar È Salsedo Però il vero debutto Sarà quando giocheremo noi Chievo porto E finisce Vinciamo 2 a 0 Con doppietta di Werner Rosso di Ampadu Intanto Simuliamo anche Contro l'Arsenal Perché tanto Non vedo Perché non simularla Siamo forse Superiori All'Arsenal Ragazzi Che acquista Guarda Ce l'hanno regalato 65 milioni Un'87 di overall Arsenal Chievo finisce 2 a 2 Ci sta Ci sta Ci sta Ragazzi Chi è questo Il regente di qualcuno Centrogrambista Brasiliano 1 con 2 Lipsia La formazione In boss anchina Però a noi Non ce ne frega niente Perché giocheremo Tanto la prossima Vai Sempre in porta Chievo Lipsia Vinciamo 2 a 1 Mi gioco la partita Con De Boyer Leverkusen La formazione cambierà Infatti Scenderà Adli In campo Al posto Di Vignato E Proverò Proverò A Salsedo Inizia la semifinale Di questo torneo Per campionato Chievo Verona Leverkusen Vi ricordo Vedete solo il gol Saka Saka Se ne va Saka Saka E E E E chi lo ferma E non lo fermava più nessuno Ragazzi Subito segno Esposito Gol di Chievo 1 a 0 Passaggio Adli di tacco Esposito Per Saka Grande esposito oggi Saka Se ne va Saka Saka Il tiro da lì Di Saka E c'è il gol Di Saka Che oggi è strabiliante Ha fatto Assist e gol Oggi Saka è Se lo vuole riprendere Il posto di titolare Se lo vuole riprendere Saka Eccolo Messi Se ne va Della vega C'è in mezzo Esposito C'è in mezzo Esposito E da solo E da solo Esposito E c'è il gol Ehi Esposito Appena hai sentito Che ti dovevo scambiare No 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 Mister Segno No no Segna Ma perché Della vega Scarta L'avversario Della vega Della vega Il cross Per Adli Che si mangia il gol Non ce lo mangia Non ce lo mangia Non ce lo mangia Non ce lo mangia Adli Un po' Un po' Fortuna Però segna anche lui Segna anche lui A war oggi Non è che si è fatto vedere tanto È finita Vinciamo 4 a 0 Siamo in finale Buonissimo Perché ci può dare 10 milioni Questa Questa finale Ragazzi Cerchiamo di vincere Perché ci può dare 5 milioni Asta partita Venisius Union Se ne va Venisius Il cross Immenso Attentica C'è il giocatore Tisikianov Tisgankov C'è il gol C'è il gol Dall'arsenal Che giocatore Venisius Unione Ragazzi Che gioca Eh vabbè Alan del gol 2 a 0 Arsenal Werner per a war Che sta molto dietro Eh Werner Il tiro di Timo Werner C'è il gol Del chievo A 45esimo minuto Ci sta Ci sta Ci sta Perché Vabbè Abbiamo operato forse Un pochettino di meno Ma Ma ce lo meritiamo Il cross Vabbè Però sempre Che ha fatto Sempre Poteva uscire Sempre Qui eh Finisce la partita Partiamo 3-1 Contro l'arsenal Eh Ce la sono meritata Anche se abbiamo fatto Tante occasioni Cioè Abbiamo sfrecato Anche tante occasioni Il 7 agosto Ragazzi Abbiamo la finale Appunto Abbiamo la supercoppa Italia La supercoppa italiana Proviamo 50 milioni Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego No 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 Ragazzi È impossibile Non ce la faremo mai Non ce la faremo mai Non ce la faremo mai Ci serve Rugani Ci serve Come Oh Hanno già dato 50 milioni Ma così a caso Eh ragazzi Non so se ce lo Se ce lo prende Lo stipendio è qui Offro tutto Offro tutto Se non ci Se non ce l'accetta Siamo veramente Fregati Non possiamo Non possiamo No Edda Eh non arrivano offerte Ragazzi Ah voi Lo chiamate Ah offerte per Ma Cioè Io dico Fra tutti quelli Che io dovevo vendere Voi mi Voi mi Chiedete Andarti Cioè Non vale un Un cavolo Non vale È vero Abbiamo due Supercoppe Non ci ho pensato Due Eh cioè Giochiamo tutte e due E poi abbiamo Quella contro il Barcellona Ragazzi Ragazzi Io me le gioco Tutte e due Quella contro la Juventus E quella contro il Il Barcellona Eh Poi si vede Comunque la formazione Che scendere in campo È questa Giochiamo contro Di Timonte Calcio Io vorrei vincere Eh Cioè Dò più priorità Alla Supercoppa Europea Però Comunque Mettiamo Tutte e due le partite Mettiamo sempre La Formazione Titolare Tonnaglio 84 Eh Anziofatti è cresciuto 83 Ragazzi La formazione Che scende in campo Quest'oggi In Supercoppa Italia È sempre in porta Salsedo Bastoni È un po' di indifesa Anziofatti Tonali Vignato Howard De La Vega Leo Messi Al centrocampo Con Timo Werner In attacco Il cross di Robertson È buonissimo Ok Sempre 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 Sta veramente Sta peggiorando Non lo so Ecco Lì Messi No Perché Anziofatti Anziofatti Ui Ha fatto qui Anziofatti Il tiro Murato dall'ultimo All'ultimo Tonnagli Siamo Tonnagli Eccolo Werner È patito Sempre così Si fa vedere Werner Incredibile Il tiro di Timo Werner La botta Cesni Vabbè qua ho sprecato io L'occasione Ho sprecato io Salsedo Ui Ampadu Se l'hai trovato lì Ampadu Ampadu Pensaci tu Che gol ha fatto Che gol ha fatto Ampadu Il finale di Supercoppa Grandissimo Ampadu Che in questa immagine È strabico Ma ci va bene Lo stesso Werner Ui Pazzo Delict Eccolo Vignato No Il sabotaggio Del giocatore della Juventus Passaggio per Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo Vabbè Bastò Ampadu È salvato Ancora noi Attendi che qua rischiamo Rabiot Fuf Rabiot 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 Salcedo Madonna mia Che giocatore salcedo ragazzi Che fuori gioco eh No Il cross è un tiro Williams 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 per Dybala 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 Ampadu Salva tutto Grandissimo Ampadu Williams Chi è sto Williams Il passaggio per Rabiot Pensavo fosse gollo Se l'è mangiato E viene subito Cacciato Berna Ampadu Pensaci tu Pazzo della Lega Eccolo Eccolo Messi 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 Ancora Messi Ancora Messi Ancora Messi Ancora Messi Il gol Il gol Il gol Il gol Il gol Il gol del Chievo Il gol del Chievo Con il solito Leo Messi All'ottantesimo minuto preciso Se ne va Leo Messi A 36 anni Probabilmente Però c'è la velocità Ancora di un ragazzino Ragazzi Che gol Qui Mtti era Cioè stava per essere Giustiziato Della corte marziale Se faceva quell'intervento Mtti Tonali che fa qui Ronaldo Manda fuori Finisce la partita Possiamo alzare la coppa al cielo Possiamo alzare la super coppa Ragazzi Dai Bellissimo Dai Ci sta Ci sta assai Qui l'alta al cielo Bassoni Che non ha potuto alzare la coppa Italia Perché l'ha alzata Cesar Grande bastoni Dai Bravissimi ragazzi Oh Offerta per Uros Razzic O Razzic Per 12 milioni Lui vale sicuramente di più Quindi La biondola però Vabbè Partiamo offerta Offrire 18 milioni Per Razzic Passiamo 16 e 9 16 e 9 16 e 9 Dai Sì Hanno accettato 16 e 9 Per Razzic Buonissimo Buonissimo Super buono Super buono Ragazzi No 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 Sto potendo Stare finendo Per Ah Per Nardi Ok Finchè Nardi Giochiamoci La finale Della Supercoppa Europea Contro il Barcellona Che ha vinto la Champions League Barcellona Champions League Chievo Verona Europa League Si sfidano Le due vincitrici Di queste due competizioni Appena accennate Oggi Gioca Adli Perché in caso Adli non se ne va Abbiamo Vignato Anche Quindi Ogni partita Si alternano Perché Adli Ha anche un ruolo In squadra Importante E non voglio Farlo diventare Col morale rosso Sempre in bordo Salcedo Bastoni Ampato in difesa Anzufati Tonali Adli Awar Dalla Vega Le Messi Accendo campo Con Timo Werner In attacco Sta per cominciare La Supercoppa Siamo contro La vincitrice Della Champions League Anzufati Eh si Oggi c'è anche L'ex C'è anche Anzufati come ex Oltre a Messi Nebelè Nebelè per Martinez Tenti c'è Artur Il tiro Ah vabbè Semper ha fatto Quella parata Prima E non sa parere questa Eh c'è qualcosa Che non Che non va In Semper Indietro c'è Awar E da solo Awar 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 Se ne va Awar Il tiro di Awar Tre stegane qua L'ha proprio Strecata Awar Awar Werner Werner Il tiro di Timo Werner No la traversa Non ci voglio ridere Dai 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 Tonali Tonali Che cavolo ragazzi Stiamo soffrendo qui Il tiro È incredibile Che gollacchione Che gollacchione Che gollacchione BAM Madò Awar Beh si L'attacco Eccolo Grande Werner Corre Eh no Eh no Eh si si Werner 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 Madonna mia Madonna mia Madonna mia Madonna mia Werner Madonna mia Werner Grandissimo Grandissimo Il cross Per quale motivo Adeli Se ne va È veloce Eccolo Ho visto Messi 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 Attento Messi 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 Con la sua Squadra Messi La ribaltiamo Anzi La recuperiamo 2-2 Barzachievo Con il solito Con il solito Lo Messi Che segna di destro Stranamente Beh stranamente È abituato Con tutti e due piedi Lui però Eh vabbè Non so se Ha risultato Si Ha risultato Il gollo Il gollo Il gollo Di Leo Di Leo Messi Alegnà 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 Che fate Che fate No no Che fate Che fate Ragazzi Che fate Che fate Che fate Che fate Che fate Che fate Bastoni Madoka Spento Ampadu Messi Se ne aveva Messi Cori Lionel Ambo Lentuccio Oggi Dai Eccolo No Perché Lui Entra Entra Saga Ui Bastoni Messi Averluiz Ancora Alegnà Il palo Del Barcellona Alegnà Ancora Spazzate Via Artur In mezzo Madonna Ragazzi Dai Dai Lega A te No No Oh Saga Ragazzi Non è in fuori gioco Werner Il tiro di Timo Werner E che cavolo Timo Werner Però Parità Tempi supplementari Ragazzi Tempi supplementari Saggio è ottimo Abel Ruiz Sempre Ruiz Werner Werner Il tiro di Timo Werner Da lì Smanaccia Ter Stegen Eccolo Aguar 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 Ad lì Ad lì L'ha sprecata malamente L'ha sprecata malamente Fuori gioco Salsedo Salsedo No No Che cosa è succedendo Che cavolo Eccolo Aguar 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 Il tiro No Vabbè Ter Stegen è un mostro Inizia la partita Calci di rigore Ragazzi Calci Di Rigore Dai Semper A sinistra L'ha sbagliata Messi contro la sua Ex squadra Leo Messi Si Aspettate Stegen E fa così A destra A destra A destra Sempre lui La para Grandissimo Werner Lì L'ho battuto anche male Però E' dentro Secondo me A sinistra Ah no Ancora a destra No palo Tonali No Grandissimo Gol di Arthur A lì Si palo Il gol Questo evento A sinistra Semper L'ha parata Semper Che parata Ha fatto Semper Ne ha parati Due Vinciamo la Supercoppa Vinciamo la Supercoppa Europea Ragazzi Grazie a lui Grazie a Semper Grandissimi Tutti quanti L'eroe L'eroe Semper Comunque E' pronto il capitano Per alzare il cielo Per la seconda volta Alza una Supercoppa Ecco La presa in mano Il capitano E' alza il cielo Tutta quanta Certo che l'alza il cielo Vinciamo la Supercoppa Europea Siamo i migliori D'Europa Diciamo Una sorta Sì Sorta Adici venduto Certo L'accettata Grande Ragazzi C'è Poi No Offerta per Adli Eh io La devo accettare Ragazzi Cioè io devo Contattare Perché devo Sì Devo Posso chiedere 43 milioni 43 e mezzo 43 e mezzo Per Adli Accettano Accettano 43 milioni Per Adli Ragazzi E' un botto Per un 81 Vai Sainen 4 milioni 4500 Accettano Vai Sainen Adli Venduto Ciao Adli Resterai Nelle nostre memorie Resterai Nelle nostre cuore Però c'è arrivata Un'offertina Leggermente Bassina Per il nostro Il nostro Il nostro Il nostro Il nostro Il nostro Giocatore Più forte Faticamente Timo Werner Che io vado A rifiutare Proprio perché Non me la sento Iniziamo 48,3 Milioni Vediamo cosa ci dice Real Perché lo voglio Lo voglio Sotto i media Rugani Offriamo 40 48 40 Sì 48 Milioni E 3 Ragazzi Perugani Ah ok Ci sta Ci sta Ci sta Il prezzo Dai Offro 50 Come l'altra volta L'altra volta Avete accettato Vediamo se accettano Anche ora No però Stiamo là Dai Dai che è il nostro 51 E mezzo Per favore Per favore Real Per favore Accettano 51 E mezzo 51 Milioni E mezzo Per Daniele Rugani È un colpaccio Ce lo facciamo Ok La clausola Di 91 Milioni Ma chi è che Te la paga A te Rugani Ok Ah Questa Quindi è bello Alticcio È tantissimo Dai Ha accettato Daniele Rugani Quindi Rugani È un nuovo Giocatore Del Chievo Veronica Del Chievo Veronica Madonna mia Del Chievo Verona Abbiamo 5 milioni Innanzitutto Ci compriamo Un ostituto Camavinga Ecco Camavinga ragazzi Per farlo tornare Dico io O Renatino Sanchez Vabbè Eccolo Ferrera Santos Mi dite Ah Che pa Si è appena trasferito Ragazzi Allora Allora Torna lui Torna Camavinga ragazzi Torna Camavinga Direi proprio di sì 20 milioni netti Per Edoardo Camavinga Oh vabbè dai Ci sta Ci sta Accettiamo Edoardo Camavinga È un nuovo giocatore Del Chievo Veronica Chievo Veronica Un'altra volta Fatico Chiesa È un 83 Ancora Meno male Quindi facciamo Per prima cosa Vediamo Scambio giocatori Sai non vogliono Akugun Ci attacchiamo Al Al Peripaccio Eh Lo sapevo Alla Direzione centrale Ci sta Dove una pista Offri altro ruolo Direzione centrale Ah Ah Direzione Dove una pista Potrei offrire Fontana No Direzione di centrali Ci starebbe Quel Vice Hainan No Quindi offriamo Altro ruolo E offriamo Offriamo ragazzi A Luca Fontana E non vogliono Niente A Fontana E va bene Però 23 milioni Per Federico Chiesa Ehi Perché Che Abbiamo venuto A Vaisainen Abbiamo 33 milioni E vabbè Ci riproviamo Nel prossimo episodio Dopo la partita contro l'Inter L'episodio finisce qui Abbiamo 33 Milioni E Dobbiamo fare Altri due acquisti Dobbiamo comprare Federico Chiesa Che Non possiamo scambiare Con Hakun Perché la finitina Non vuole Hakun E dobbiamo Comprare Un Dobbiamo comprare Un difensore di riserva Che non superi Mo Il 75 Perché deve Deve valere davvero poco Perché Vaisainen è stato venduto E guardate La squadra di riserva Non abbiamo Un difensore centrale Di riserva Perché lì c'era Bastoni Cioè Mo c'è Bastoni Prima C'era 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 Tizio e Caio L'acqua Come si chiamava C'era E ci serve anche un centrocampista Anche se Abbiamo Abba Che Lo può fare tranquillamente Quindi Non ci preoccupiamo Quindi ragazzi Mi serve Il difensore centrale Per la squadra Tornover E mi serve Chiesa E quindi Fatemi sapere Come dovrei gestire Un po' la situazione Scusate se non ho potuto Accontentare a tutti Ma Caioverse Era irraggiungibile Non potevo E Barella anche Quindi vabbè Ho comprato quelli Che proprio Che potevo comprare A Warren Rugani Comunque ragazzi Vi saluto E ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.